Ciao a tutti i biscottini, non fate casa al mio aspetto ma mi sto tipo sciogliendo dal caldo. Infatti oggi facciamo una ricetta fresca, velocissima, facciamo il frappè alla Nutella, quindi il milkshake alla Nutella, perché ho visto che il frappè all'Oreo, vi lascio qui il link per accedervi, vi era piaciuto, allora ve lo faccio, non è molto diverso, però comunque potrebbe esservi utile. Se volete vedere come preparerò il milkshake alla Nutella, restate qui dopo la sigla. Vi servono 100 grammi circa di gelato fior di latte, quindi gelato alla panna, 80-90 ml di latte, 2-3 cucchiai di Nutella e della panna spray. E due bicchieri. Per prima cosa facciamo una decorazione sui bicchieri con la Nutella, un po' a piacere, senza essere troppo... Quindi fior di latte, latte, andiamo a mettere il primo cucchiaio di Nutella, e mettiamo anche il terzo per non farci mancare niente... un po' di nutella adesso andiamo a mixare tutto ed ecco il milkshake alla nutella ok, ora mettiamo un po' di palla e ci mettiamo pure un po' di cioccolato se voi la vede se no ci mettete la nutella ed eccoli qui assaggio in diretta sa molto di nutella è buonissimo quindi adesso avete la scelta voglio fare con questo o quello all'oreo sono buonissimi tutti e due ci vediamo il prossimo lunedì con un'altra video ricetta un baciole e alla prossima ciao se volete vedere come vi prendete bene sempre qua metto il fio se vi prendi qua prima poi vediamo perché mi sono fatta un macello sto sporca sto sporca no vuoi fare la pallavaggio? di assaggio no ciao 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 ciao